e gli autori che presenteranno i film devono anche dire qualcosa per cui alzatevi in boggio, non rinfinatevi subito allora, accomodatevi, benvenuti oggi cerchiamo di iniziare in ritardo, ma non troppo in ritardo come sempre perché altrimenti ogni volta diventa 45 minuti per cui iniziamo ora e probabilmente alcune persone arriveranno a seguire anche delle persone che presenteranno i materiali proprio iniziali dobbiamo rinfinire cartografie questo ciclo di incontri la domenica pomeriggio una sportura incredibile c'è sempre il sole fuori quindi proprio i residenti in novembre stare nella sala buia del sole è proprio triste non dovrebbe succedere ma doveva piovere statisticamente era stato già annunciato e invece maledizione iniziamo a Londra 5 minuti di pomeriggio dalle 4 alle 7 circa dedicate dedicate a settori diversi per così dire della cosiddetta creatività in realtà è tutto molto più intrecciato però per semplificare abbiamo usato queste categorie scrittori, filmmaker, artisti, disegnatori architetti quello che ci interessa dico delle cose che ho già detto 27 volte ho pazienza perché qualcuno non c'era quello che ci interessa non è tanto fare l'arma, il pdf o il cartaceo di quelli che fanno delle cose creativi in questo territorio quello sia questo è livello 1 quello 2 è invece iniziare a tracciare delle relazioni un po' più complesse e soprattutto delle relazioni cioè tra i punti quindi non è tanto le pagine già di creativi ma quello che può succedere in un bar come questo quindi non è un convegno non è una conferenza è una cosa che può informare allo stesso tempo dove eventualmente c'è la possibilità una volta in atto di incontrarsi e così chiacchierare in una situazione come questa sono autopresentazioni cattivissime, rigorose di 600 secondi lo dico perché c'è l'oltre abbiamo l'orologio proiettato che a volte si vede a volte no e la cena quindi ve lo dico subito a 9 minuti 9 minuti la sirena parte per cui chi sta parlando no, chi sta andando a me lo facciamo a me davvero però insomma vogliamo essere abbastanza precisi su questo ma semplicemente per avere un po' più di tempo poi per fare cose ecco per evitare insomma di essere di diluncarci di troppo tutto quello che facciamo quello che mostriamo viene rapidamente è repentinamente curato dalla dottoressa Gambier che quindi inserisce tutte le informazioni fotografie che avevano prese da tutti noi è un gruppo di latono che sta curando le nostre mini cartografie che è Gaia Maggi mercia Gambier e simonetta baby che ha influenze caduta sul campo chissà non so se questo è stato molto in precedenza è abilita insomma e quindi tutto bloggato stiamo facendo delle riprese video per le quali avete firmato simpaticamente delle liberatorie veramente video poi saranno messi online agganciati al blog alla fine di questo ciclo di incontri avremo una buona parlante insomma con le persone partecipanti che parlano in prima persona del loro lavoro che parlano sempre per qualcun altro quindi ci sembra molto interessante ecco ci sono due ritardattari libretto no abbiamo quasi finito però restate un attimo c'è giusto la torta con Davide Montecchi che si presenta io non presento niente ovviamente grazie grazie